Tutti, davvero tutti, in acqua. Lo sport che fa incontrare gli sportivi, agonisti che si allenano tutti i giorni, che nuoteranno fianco a fianco di atleti con alcune disabilità come Sara e Leonardo. Oggi anche loro erano al tavolo di presentazione nella conferenza stampa in comune di tre grandi eventi sportivi. Di solito a maggio avevamo la grande sfida, l'abbiamo spostata a settembre, come lo scorso anno. Finalmente riprendiamo a fare le gare in presenza, quindi la gara di nuoto sarà domenica alla piscina all'interno del centro polifunzionale Don Calabria. È ora data in gestione la CSSA Sport, che si occupa anche della piscina Montebianco, con la quale tradizionalmente ogni anno proponiamo questa gara dove partecipano i nostri atleti di cinque piscine della provincia con gli agonisti che si allenano di solito nella piscina, quindi pallanuotisti, nuotatori e quant'altro, che gareggeranno a coppie, a staffette a coppie, sommando i tempi con i nostri ragazzi. Gli eventi saranno realizzati con la collaborazione di enti e associazioni, tra questi il centro polifunzionale Don Calabria che da tempo collabora con queste iniziative. L'11 giugno ci sarà il torneo di pallacanestro alla scuola Stimate, che ci accoglie da molti anni con l'attività di pallacanestro. Anche lì le nostre squadre di Verona e provincia si troveranno per un triangolare. E poi invece saremo al centro avanzi, il giorno dopo il 12, del centro sportivo italiano, dove anche qui il torneo di calcio, il torneo Gigi, che da diversi anni organizzavamo, negli ultimi due anni non abbiamo potuto fare, con tanti amici che abbiamo conosciuto perché una nostra squadra permanentemente da molti anni fa parte del torneo di calcio a cinque del CSI. E quindi formeremo tutte squadre integrate, saranno almeno sei le squadre, dove sono presenti alcuni dei nostri atleti della grande sfida insieme ad altri atleti di calcio a cinque, di altre squadre che in questi anni abbiamo avuto modo di conoscere e avvicinare.